Poi il giardiniere ci ha parlato di una mela gigante che ha attraversato il prato dei tulipani Anche per oggi è tutto cari amici Sandrino è riuscito a risolvere un altro caso misterioso a Sgomponia Mi dispiace questo non l'ho visto Hai detto che avevi visto tutto Oh certo credo di aver capito Mi dispiace questo non l'ho visto Hai detto che avevi visto tutto